entusiasta però denarfort dal meggiardino perché vedrà sempre sta parete bellissima affascinante perché la feva la fa impressione perché sembra proprio una parete che ti viene addosso mi diceva mia mamma mi ricordo ma te la voli 12 ore al dia dopo il sabato e la domenica te vai a far fadiga ancora a montagna ma guarda mamma che io non vado a montagna per far fadiga quando vado a montagna pocio perché per me rilasciarmi quando vado a montagna perché già stavo tutto lì piegato sul pavimento o a far fatica quando vado a montagna non favo fatica non la sento la fatica perciò le riposo così famosa frase che c'è al brentei non il riposo il riposo ma mutare fatica la fatica è vero riposo penso che sia centratissima è pronta lì fia d'accordo da ottanta è una roba immaginata quanti anni 14 meraviglia guarda qua la valle del sarca ha alcune peculiarità il clima la bassa quota questa grande costiera rocciosa sulla destra orografica rivolta ad est ci sono delle pareti di roccia straordinariamente belle la roccia fusa col te col col clima e con un certo tipo di paesaggio intorno fatto sì che si sviluppasse prima l'arrampicata alpinistica sulle grandi pareti poi il fenomeno dell'arrampicata più sportiva lei avrebbe grosse potenzialità possiamo dire una data precisa che 1933 quando ormai l'arrampicata su roccia in dolomiti aveva già raggiunto il sesto grado e anche sesto grado superiore si cercavano le grandi cime per per salirle e improvvisamente due accademici miori e frederickson hanno salito per primi la la parete del monte casale che è 1400 metri facendo un'impresa notevole insomma anche se non è non di sesto grado ma questo non è importante è un po' complicato perché non sono qualificato per l'Olimpico non è un po' complicato per l'Olimpico è un po' complicato per l'Olimpico perché è stato accusato di stapparare sul buone non è quello che fa altra cosa mi sarebbe bella è molto difficile ma comunque ma ancora ho un po' di spazare non è così Sì, c'è più. per esempio tutti i ciechi chiamano gnocchi gnocchi ma non ha motivo con tutto il colodri sotto non è che la proprio lega lega i due capi laura regia no no tienilo tensione sì ma non cagliarti addosso sì mi cago addosso dopo l'impresa di friederichsen e miori c'è stato invece un grande nome che è intervenuto proprio nella ripetizione tra l'altro di questo itinerario bruno del tassi che tutti conoscono come tra i più grandi sono esponenti dell'alpinismo tolomitico il quale diciamo che prima ha ripetuto poi a dopo ha fatto anche un itinerario questa volta sì di sesto grado sul piccolo da in famosa la famosa canna d'organo e questo ancora prima della guerra il bruno del tassi e risieri costata che erano due guide alpine mentre salivano la canna d'organo il bruno dove diceva sempre che era la via più difficile che aveva aperto e dove è stata l'unica volta che aveva accato a un certo punto ho chiesto a risieri costata dai ris che lo chiamava ris fammi un tiro di corda che polso un pochettino guarda se ti vuoi bruno mi sono bravo a suonarti sulla fisarmonica ti faccio una suonadera però mi davanti qua lo vado altro grande nome è stato quello di marino stenico che ha fatto anche lui anche proprio durante la guerra ha fatto delle vie e ha mandato avanti sono questo discorso esplorativo e poi poi è arrivato cesare maestri ecco mio fratello e mia sorella vivevano a roma erano tutti e due degli attori famosi siccome io non sono mai stato portato per il teatro sono andato a roma e a un certo punto mi sono stufato proprio di stare lì e gli ho detto io vado a vado a casa ma cosa vai a fare a casa non so la storia è andata a casa e di fatti sono arrivato qua verso la fine del 49 ho conosciuto per caso un alpinista famoso si chiamava Gino Pisoni io ho scritto e dico sempre che Gino Pisoni non solo mi ha insegnato dove mettere le mani ma soprattutto dove mettere il cuore e Dino Pisoni mi ha portato sulla normale della Paganella che è la montagna di Trento saltando invece a Cesare Maestri questa è stata un po' l'impresa che aveva portato alla ribalta un po' in quel periodo la valle il famoso diedero del limarò in quattro giorni con Baldessari siamo già 57 58 quegli anni lì ha salito il grandiedro che dove Cesare Maestri aveva chiesto a Claudio Baldessari andiamo a scalare il cerotore perché il cesarino Fava mi ha mandato una lettera c'è una montagna per noi c'è pane per i nostri denti e Claudio Baldessari gli dice ma no ma guarda che i francesi hanno detto che è una montagna impossibile si risponde il Cesare Maestri anche questo diedero era ritenuto impossibile ma siccome l'abbiamo salito vuol dire che l'impossibile non c'è proprio niente il Dain dietro del Dain io ho seguito un po' l'esempio di Bruno del Tassi perché lui guardando il Dain guardandolo diciamo il Corsarca sulla sinistra c'è la via ferrata e poi c'è una bellissima via di Bruno del Tassi il padre del Cesare Maestri si fermava tutte le macchine sulla strada i pullman aveva messo su un circolo cioè loro erano attori e allora quando c'era lì parecchia gente per vendere le cartoline per la spedizione diceva signori venite venite fermatevi venite qui a guardare c'è il ragno che le arrampi calane al dietro allora tutti che guardavano e aspettate aspettate che ve lo chiamo Cesare e dall'altra parte chiedo sono tuo padre ma va fateci a valla se me rampegar e poi vendevano insomma facevano gli attori come ho sempre fatto e poi vendevano cartoline a nastro ho capito che di aver trovato cosa avrei fatto nella nella mia vita avrei fatto la direpiglia perché non sapevo fare l'altra insomma io mi sono accorto subito che arrampicare era veramente una cosa stupenda per me io uccia分ita stei sul porto Appassionati di montagna, l'unico pensiero era del giorno scalarla, nel frattempo andavo sui monti opposti per vedere se aveva la verticalità. Certamente affrontando l'incognito perché non sapevano quante ore li mettevano, che attrezzatura che voleva, il tatero che mi sentò di Drio, corde e cioti in abbondanza. Entusiasta però di Nalford al meggiardino perché vedrà sempre questa parete bellissima, affascinante perché la feva la fa impressione perché sembra proprio una parete che ti venne addosso. Quando sorge il sole continua a cambiare i colori e man mano che il sole si alza cambia le ombre. Quelle ombre poi che le serviva come orologio, i nostri vecchi, vada a suddainà e mette le lundes e le presto raddano a disnare perché come il sole, il mio amore allungava le ombre. Ecco direi il mio amore romantico. Per parecchi anni non ci fu niente fino a che ci fu un valorizzatore, diciamo, della valle del Sarca che è un nome italiano, Heinz Steinkötter, di Colonia. Lui per primo ha cominciato un po' a esplorare tutte queste pareti. Si è trovato anche a fare una prima ascensione con due nomi del calibro di Heinrich Holzer e Reinhold Messner sulla cima alle coste. Questa parete di 600 metri era tutta da fare. L'idea di Steinkötter di fare una via nuova lì nella zona, non so neanche il nome della parete. Cima alle coste. Si, cima alle coste, dove c'era una parete di forse 600-700 metri, un po' di mughi, un po' di roccia, abbastanza buona anche parzialmente, parzialmente anche friabile. Negli anni, direi, inizio 80 e poi, l'alpinismo è diventato una cosa globale. Oggi l'arrampicatore c'è dappertutto. Non ci sono più gli alpinisti delle Alpi, dell'Inghilterra, un po', degli Yosemite Valley che fanno la loro attività. Oggi vediamo alpinisti di punta in tutti i continenti e in tutti i paesi, quasi in tutti i paesi. L'alpinismo si è diviso grezzamente in tre grandi rami. Turismo, come lo succede sull'Everest, dove si fanno le piste, in sport, arrampicata sportiva, come in Val di Sarca, e l'alpinismo tradizionale. Ed è chiaro che l'alpinismo di tradizione tradizionale diminuisce in cifra, aumenta in qualità. E più vecchio divento, più tolerante sono, e dico lasciali fare. L'unica cosa che vorrei salvare è la capacità di immaginare un futuro anche per l'alpinismo tradizionale, che non sparisca del tutto, perché i giovani non vanno più sulle nostre vie. Oggi sul Civetta, in una domenica buona, non vedi nessuno. Forse in un mese vedi una cordata su una via classica e sulle palestre, non soltanto indoor, ma anche fuori, dove può arrivare macchina e dove trovano il nono, decimo grado. ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che fanno il loro sport. Ad Arco erano circondati perché, diciamo, a nord avevano fatto il casale, avevano fatto la cima alle coste, e invece dalla parte del lago era stata fatta la parete di cima capi ancora da marino stenico, e i due cugini, Ugo e Mauro Ischia, assieme a due amici che erano Giuliano Emanuele e Fabio Calzà, hanno aperto un itinerario sul Colodri, che è la parete simbolica, direi. Colodri è veramente verticale, sono 400 metri di parete, e loro per primi hanno fatto questo terreno assolutamente vergine, hanno aperto due vie, insomma la Barbara e prima la Umberta Vendramini, poi la Barbara. Non si poteva vincere, la pensavamo invincibile, pensavamo che fosse ancora più difficile, perché la pensavamo senza pigli, senza fessure per i chiodi. Il tempo va avanti, ripetiamo, io feci la seconda ripetizione della Brunello Somadossi, per esempio. Nel 79 però siamo già, io sul Colodri con Roberto Bassi e con Lelio Pifer e Luigi Giacomelli apriamo la Renata Rossi. Però prima, sempre sul Colodri, ci sono state la via del Bepi, che era di Salvaterra, l'Agostina, che però quella l'aveva fatta Giuliano Stengel, c'era la Katia, che aveva sempre fatto Stengel con il Franco Monte e poi c'era sulla parete nord del Colodri, c'era Giuliano che aveva aperto anche una via che aveva dedicato a Michelussi come primo sesto gradista italiano. Da militare ho conosciuto Mauro Ischer e mi ha regalato questa relazione della prima via sui Colodri e ho provato a ripetere questa via, parliamo degli anni 70, la via a Barbara. Dopo sei ore di grande fatica sono arrivato in cima e lì ho capito che questa valle aveva degli orizzonti che andavano ben oltre. Si arrampicava con il coraggio, con la forza delle mani. Non sali per fare una via, ti lasci trasportare e cerchi di creare, cerchi di salire e alla fine ti rendi conto che hai scolpito qualcosa dentro. Non è che sali un po' come fanno anche tanti alpinisti oggi moderni che salgono diritti, no? E la montagna ti portava, come diceva Bruno che si tratta di nuove tassi, lasciarsi trasportare dalla parete. No, paura no! Poi sai, 40 anni dopo, esser qui che arrampico e faccio la via con mia figlia, una cosa abbastanza. Fa caldo eh! E sulle mani diciamo che si sente. Per parecchi anni il fulcro fu proprio il colodri. Non pensavamo neanche di andare ad arrampicare sulle altre pareti, ma sì, qualche ripetizione, però gli arrampicatori si trovavano sempre lì. Giuliano Stengel, che è stato uno dei grandi esploratori della valle, siamo stati anche antagonisti nel tempo, insomma. lui apriva, io andavo a ripetere, io aprivo, lui andava a ripetere. Antagonisti però sempre nel rispetto. Non ho mai sentito dire il Ciano, il Furlani, pianta più chiodi di me, anche se era vero. E io ho sempre detto e riconosciuto la sua superiorità tecnica dall'arrampicata libera. Ma il castello di Arco è nato perché un giorno ho letto un articolo, un articolo seggiornale, che dicevano che dopo che io avevo violato con Giovanni Gruaz e Palma Baldo la parete e il castello, avevano sentito rumori misteriosi. E a dire la verità, se tu guardi la parete e vedi che in alto c'è un buco e magari c'è ragione anche l'occhetto pensato della Contessa, magari con qualche bel anello anche. E allora dopo che ho letto questo con alcuni amici ci siamo accordati, ci siamo calati in questo buco che poi ci ha aperto una via. Ci siamo calati, abbiamo visto questo lenzuolo in testa, le catene, insomma abbiamo illuminato le torce di questa grotta e lì è nata la leggenda perché poi abbiamo visto questi lenzuola che risalivano, eravamo noi che risalivamo con i zoomar sulle corde. i vici del fuoco ci avevano illuminati con questi fari e vedevano questi lenzuoli che salivano. Ma quello che è incredibile è che qualche settimana dopo il sindaco che mi sembra allora era il sereno Ioppi e ha chiamato e ha detto guarda dobbiamo smentire questo perché stanno arrivando i più grossi esperti di fantasmi da tutta Europa. ... ... ... A quei tempi, anni 70, per quanto mi riguarda, era un voler trasferire l'attività in montagna in zone più accessibili e fino ad allora, o più o meno fino a quegli anni là, la rampicata di Fondovalle era intesa come preparazione, come allenamento, non fino a se stessa come negli anni poi è diventata. Lui faceva il professore di ginnastica a Drò e portava i suoi allievi a correre da Drò verso la parete zebrata, verso il nord, dentro per le campagne, stradine, forestali, così, e rimase affascinato dalla parete delle coste, quella dove il Messner con Holzer e Steinketter avevano già tracciato una via, lui non sapeva neanche che ci fosse su questa via di Messner, aveva visto questo bel dietro, poi Messner e Holzer hanno tagliato verso destra e lui aveva visto la via proprio in centro, allora con i suoi amici fidati, uno è stato il Perotoni, Franco Perotoni e il Mario Tranquillini, sono partiti alla loro maniera praticamente con uno stile abbastanza potente direi. Lucia te lo senti di farlo indietro? Sta idea di dire trasferisco l'attività sulle montagne, in Dolomiti, in luoghi più accessibili e forse quello che a me personalmente ha spinto ad osservare anche queste pareti. Bivaccano alla cengia, lì c'è un aneddoto bellissimo perché avevano freddo, avevano fatto un fuocherello sulla cengia con la legna, a un certo punto il fuocherello era diventato un fuoco un po' più grande, un po' più grande, un po' più grande insomma. Ci siamo coriccati e dopo un po' queste braccia evidentemente non sono morte ma hanno continuato, anzi hanno ancora di più sviluppato calore, che è stata una cosa impossibile resistere. Non riuscivo neanche a spegnerlo insomma, gli si era incendiata mezza la cengia ecco. Chiaramente noi che siamo andati subito a vedere e la ripetemmo e in effetti è una delle grandi vie della valle del Sarca, se poi si pensa che è stata fatta nel 72, veramente il Sergio era un fenomeno, un'arampicata su roccia e poi sappiamo tutto di quello che ha fatto diciamo sugli 8000, è stato il secondo italiano, il terzo a fare tutti gli 8000 e ancora adesso che ha 70 anni all'arampica fortissimo. Tipo qua hanno riuscito a capire col piede su, al piede giù, dove al piede. Cosa che normalmente invece riuscirei a capire. E dai qua è stato meglio. Brava, brava Lucia. Cioè ormai sono Cesare Mestre 2.0. Tra i grandi esploratori della valle della Sarca non si possono dimenticare nomi come Franco Gadotti, come Andrea Andreotti, come Marcello Rossi, come Giovanni Groas e la Palma Baldo. Io ho avuto la fortuna di scalare con Franco Gadotti, con il Marcello e anche con l'Andrea. Con l'Andrea Andreotti ci legamo insieme e stranamente ci conoscevamo, ci volevamo, ci stimavamo, ma non avevamo mai proprio arrampicato insieme. Finché un giorno mi disse, Marco ho una bellissima via nuova da aprire con te, perché non trovo più compagni. Mi fece vedere la parete del Dain, siamo arrivati sotto, ho guardato su e ho detto questo ha ragione. Ed abbiamo aperto la luce del primo mattino, siamo stati in parete tre giorni. Luce del primo mattino perché? Perché nel secondo bivacco, ricordo, che eravamo su di un terrazzino. Io mi ero sistemato bene su di un terrazzino, mentre lui si era messo sull'amaca. La mattina mi sono svegliato, ero lì che guardavo su così da sto, da testa di questo pilastro che guardavo su e vidi la luce scendere lentamente. E divenne tutto rosso perché la parete, sai, lì è gialla, rosso, ocra, si incendiò tutto. Sotto c'era la valle che era tutto un fiore perché c'erano i meletti in fiore. E gli faccio, Andreotti, gol nome della via. Cosa? Luce del primo mattino. Bella, la ciamine così. Un altro grande progetto che era partito ancora nel 74-75, che è con l'Einstein Ketter, poi abbandonato, che era il superamento dei grandi tetti del Brento, la famosa via vertigine. Nel 92 siamo rimasti in parete otto giorni e abbiamo superato la parete che si dice una delle pareti più strappiombanti del mondo. Allora, la roccia del Sarca ha un suo fascino particolare, ha dei colori particolari. Sarà che la valle è comunque una valle solare, luminosa, piacevole nei profili, nell'insieme, i profumi che ci sono in questa valle. C'è sempre un qualcosa che rimane nella memoria e che ti spinge a tornare volentieri. E non è solo la vicinanza a casa, perché ovviamente da casa mia in un quarto d'ora, 20 minuti, posso essere sulle rocce di arco da scalare. Però non è solo la vicinanza e la comodità di accesso, è proprio un qualche cosa di più. E questo qualcosa io lo riconosco proprio nel colore, nella luce e nel profumo. È un qualche cosa di insieme, diciamo, che ti fa stare bene quando sei qua. Veramente, oserei dire, un fenomeno è stato Maurizio Giordani con la Rosanna Manfrini, sua moglie, e hanno aperto degli itinerari veramente impressionanti. Io ho arrampicato con tanti arrampicatori, con tanti scalatori forti. Però il pelo che ha Giordani l'ho visto a pochi intorno. Lui veramente ha questa tranquillità psicofisica che sale senza protezioni su itinerari, su difficoltà veramente straordinarie per il tempo e continua tuttora. Una, ve ne dico, il fiore di corallo alla Mandrea. Veramente un capolavoro. Io non sono mai andato a cercare la montagna famosa, la montagna super frequentata, quella che è sempre stata importante salire. Io ho sempre cercato qualche cosa di più incognito, di più nascosto, di più avventuroso. A Giuliano che, dopo la ripetizione dell'Arenata Rossi, mi dice, ma andiamo a fare una via nuova adesso. Consideriamo che io scalavo da pochi mesi, due o tre mesi insomma, quindi ho appena cominciato a toccare la roccia. Mi capita ancora ad oggi, come mi capitava 40 anni fa, di provare gioia quando scalo. Poi mi viene naturale, è una cosa che non devo forzare più di tanto. Esa ho un'entica. DimitriING Questa è un'entica. Questa è un'entica. Com'è un'entica. Menele, egalità. Non è proprio noi. Buon'è un'entica. Qui è un'entica. Per la prima. Questa è un'entica. Vidium'e. Menele, a qualche. Più. Mi capita. Di nuovo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grande no, ma la montra forse sì. Ciao. Grande. Ma vedo che stai leggendo il mio libro. Ah sì, è molto interessante. È interessante? Ti piace? Sai, l'abbiamo scritto io e l'Alessandro Gogna, è la storia praticamente di tutte le grandi pareti del Salca. Ci sono pareti grandi e molto belle. Sì, ci sono pareti alti. Ma ci sono anche io? Ci sei, anche tu, chiaramente come uno dei più grandi interpreti. E quando ho iniziato a scalare io nella valle c'erano 15 vie nel 1970, mentre adesso ce ne sono appunto mille e semplici. Intanto però il mondo gira, gira e gira e si inserisce tutto un altro discorso. Roberto Barsi nasce alpinista, diciamo, sulle grandi salite. Si tendeva sempre ad andare in Paganella perché c'era sulla compagnia, c'era il rifugio, si faceva una bella rampicata, quattro cacere e così. C'è da dire anche che la funivia della Paganella chiude. Dove andiamo a scalare per allenarne, per allenarci? Eh, vabbè, andiamo in Val del Salca. Allora eravamo tutti minorenni, perciò venivamo giù con la corriera in pratica. Ci andavamo con la corriera e si andava a rampicare, piantavamo magari la tenda, dentro ho messo qualche cavessaia, così, si stava là e si rampicava. Ma con l'avvento delle scarpette si inizia a rampicare sulle placche. La conformità della Valle del Salca ci sono zone intiere, che è un calcare levigato, che finché rampicavamo con gli scarponi era un disastro. Ma quando abbiamo iniziato con le scarpe da ginnastica tutto è diventato più facile. Buttati giù! Primi degli anni 80 a questo punto, cioè l'anno 80-81, precisamente mi sono trovato sulla spiaggia delle lucerte con gli amici Heinz Mariacher, con Luisa Jovane, con Bruno Pederiva, poi c'era anche Leonardo Di Marino, Roberto Bassi naturalmente, c'era Aldo Leviti, che avevano incominciato a trezzare, a Speed, dei cosiddetti monotiri, vale a dire un'attività che prima non esisteva, non esisteva in alpinismo sostanzialmente. Il concetto di fare arrampicata per fare quel tiro e poi scendere immediatamente, no? E quindi io sono rimasto catapultato in questo mondo dove le difficoltà erano cresciute improvvisamente in maniera per me anche inavvicinabile, tra parentesi. C'era anche un altro personaggio formidabile, notissimo, che è Manolo, no? E anche Manolo, forse un pochettino meno degli altri, con meno continuità, però è venuto spesso in valle. Sono arrivato nella Valle del Sarca, non la conoscevo naturalmente, e mi ha invitato Giovanni Groa, con il quale avevo scalato un paio di volte. Mi ha invitato nel Valle del Sarca e io non credevo che ci fossero pareti così grandi. Io ho incontrato un altro personaggio che è il Marco Furlani. Abbiamo scalato il Brento con lui, ho fatto due, tre vie nuove, non mi ricordo quante. Il primo ricordo di questa valle è questo. E in ogni caso, per quanto grandi fossero quelle pareti, partivano dal verde e arrivavano al verde. E questa è la grande differenza che le staccava dalle Dolomiti, dall'austerità di montagne più imponenti dal punto di vista proprio anche sull'impatto psicologico. Alla fine degli anni 70 ho cominciato appunto, 79, 80, a vedere che queste pareti esistevano. A vedere che erano ovunque, erano riva al mare, di boschi nascosti, non le avevo viste. E' interessante questo, l'alepinismo mi ha anche portato fortunatamente a vedere queste cose. E qui le cose potevano cambiare perché è stato un passo difficile, perché io non volevo accettare i chiodi a pressione. Io abborrivo l'idea di scalare appendendomi i chiodi, figuriamoci bucare la pietra. Sul pilastro magro racconto anche che ho nascosto i chiodi a groa. Perché Giovanni voleva portare i chiodi a pressione per sicurezza. Io non accettavo nemmeno la forma di sicurezza. Personalmente delle difficoltà quando aprivo una via non me ne fregava niente. Non mi sono mai posto limiti di chiodi, per esempio. Ma se l'avesse fatta un altro, l'avrebbe fatta con meno chiodi. E doveva andare a farla lui, allora io l'ho fatta così, con quei chiodi lì. Lo scultore vede nel legno dove intagliare il proprio capolavoro. Il pittore nella tela. Io lo vedevo sulla roccia. Vedevo un bel diedro, ah che bello che sarebbe salirlo. Un bel pilastro, ah che bello. Ma non mi sono mai posto limiti etici. No, quello non mi interessava. Cento chiodi, duecento chiodi, trecento chiodi. Non mi interessava. A me interessava fare quella via. Dopo invece ho scoperto che si poteva scalare senza morire ogni volta. E la Valle delle Sarca dava questa possibilità. E qui eravamo già avanti. Mi ha invitato Roberto, con il quale siamo diventati amici. Mi ha invitato a conoscere, Alberto Bassi, scusa. Mi ha invitato a conoscere, ad esplorare. Ed era fantastico perché eravamo i primi. Eravamo i primi che avevano un solo pensiero al mattino. Nessun denaro in tasca, nessuna possibilità di permettersi nulla, ma un caffè e tutti i sogni nello zaino. Perché potevamo scalare ovunque, in qualsiasi momento. Ogni mattina potevamo scegliere un posto nuovo. Anche chi non aveva, come dire, grandi possibilità, si è avvicinato a questa attività, è diventato più bravo. E quindi forse è riuscito anche ad apprezzare molto di più quello che poi è diventata la Valle. Veramente un sito incredibile, fantastico. Che io però ho trovato fin troppo presto soffocante. Perché quando le cose hanno, come dire, giustamente perso la loro direzione, io che andavo in montagna a scalare per altri motivi, non sono dovuto obbligatoriamente andarmene da un'altra parte. All'inizio degli anni 90 e fino ancora ad oggi, la Valle della Sacca è diventato veramente un laboratorio di ogni tipo di arampicata, di ogni tipo di alpinismo. Si andava da itinerari davvero estremi, ma che più estremi non si può, tipo, mi viene in mente, per esempio, Sodoma e Gomorra. Ecco, si andava da itinerari di questo genere a vie magari, appunto, che erano più concepite per le ripetizioni. Vale a dire, l'apritore si preoccupava di quelli che avrebbero ripetuto questo itinerario e quindi metteva qualche chiodo in più e magari anche qualche spit, fino ad arrivare a itinerari cosiddetti plaisir, come si dice oggi, cioè itinerari dove il rischio effettivamente è molto limitato e quindi di alpinismo ce n'è un po' meno. Le grandi pareti, a cui poi si crea anche, come dire, un certo attaccamento e il bello della Valle del Sarca io trovo, e si ripete tutte le volte, che dal Busa la Vela scendo giù verso Sarche e rivedo tutte queste pareti messe in fila lì, dal Dain, molto stretto, queste spinte gottiche verso l'alto, il casale più ampio, con i pilastri laterali, poi il Brento con i tetti, questa parete inaccessibile, cima alle coste, poi le pareti un po' più basse, i colodri, ma questi bei muri verticali, è l'atmosfera che troviamo in Dolomiti. A un certo punto è arrivata però una figura dalla Germania, quella di Heinz Grill, che ha rivoluzionato totalmente il discorso della Valle del Sarca, perché lui dai primi degli anni 2000 fino ad oggi ha aperto una roba come 120, se non 130 itinerari, lo stile che lui chiama ritmico, che è una via di mezzo, insomma, tra l'alpinismo rischioso, un po' pericoloso, e quello che è l'arrampicata che magari così permette, insomma, che il volo non sia mortale. Che cosa vuol dire il ritmo? Il ritmo per me è il toccare della luce con la materia. Questo ritmo per me è importante di trovare nella via, se apriamo una via, è importante di creare questo ritmo. Anche con tutti i movimenti per la sicurezza, per una sicurezza un po' associativa, per me è sempre importante di trovare questo ritmo. Arampicata per me è una gran passione. Sono stato molto fortunato di poter trovare la passione quando già avevo 3-4 anni, perché i miei genitori sono arrampicatori, e per me era molto naturale di iniziare a scalare. Dopo un paio di anni ho trovato che proprio l'arrampicata è mia vita. Grazie all'arrampicata mi sono imparato tantissimo, mi sono viaggiato in tutto il mondo, e per me arrampicata non offrisce solo le sfide. Mi piace arrampicata al mio limite, avere le mie sfide, andare sulle competizioni, prepararmi per campionati del mondo o olimpiadi, ma mi piace anche veramente solo arrampicare, perché non è solo arrampicare, non è solo di fare dei movimenti duri, ma è anche una gioia. E anche di viaggiare, anche conoscere nuovi posti, e conoscere la gente. Per la prima volta mi sono venuto quando avevo tre anni, non mi ricordo niente, ma c'è un ricordo con mia sorella, una foto che siamo a piedi nella falesia di Massone. La seconda volta che mi sono venuto avevo sette anni, e già ho bei ricordi, che ho fatto nelle mie prime vie, dal primo, e già dal momento siamo venuti sempre con i miei genitori, sempre un paio di volte all'anno. Nel frattempo ho fatto tante vie in arrampicata sportiva, e anche negli ultimi anni, anche delle vie che sono più dure nell'Italia, come Queen Line, che ha un grado 9b. E quello che mi piace è che c'è tanta storia, con posti molto storici, come qua, in spiaggia delle Lucetole, dove le vie proprio non sono banali, richiedono tanta tecnica, devi essere molto preciso con i piedi, ma poi ci sono anche strapiombi, anche potenziale per i progetti molto molto duri. E poi la combinazione con questo posto bello di vacanze, dove puoi fare un po' di tutto, è stupendo. Sto vivendo il mio sogno, sto vivendo esattamente come stavo sognando quando avevo sette anni. Adesso sicuramente sento una responsabilità di forse mostrare agli altri, di soprattutto sento che, di come fare che tutti questi posti rimangono non solo per noi, ma anche per le prossime generazioni. E adesso, con tutti i nuovi scalatori che sono venuti dalle palestre, è molto importante dire ok, questa è una palesia, non è una palestra, è buono di atteggiare così, di rispettare la natura e questo ambiente. Allora, com'è andato di scalare? E adesso, è divertito? Bravo! Bravo! E chi è che ci ha preparato per questa roba qua? Non so, mio parito. Siamo fortunati. Bene. Vedo che c'è anche dell'ottimo vino. Tu bevi vino? Poco, ma adesso... No, adesso arrivo a rinagare. Allora, allora puoi fare. Viva! 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 e se vede pieno di amici per la città